In questi giorni sto visitando un po' la Campania, un momento bello, un momento di crescita, il Natale è sicuramente un'occasione per ritrovarsi. Questa sera è un'iniziativa importante quella che si presenta, le tradizioni, i riti religiosi, le no gastronomie, insomma un territorio che ha tanto forza e che questa sera si racconta. Da qualche anno noi stiamo provando a dare voce e forza a tutti i territori, sicuramente alla grande città ma anche ai piccoli centri. Stiamo lavorando molto sulla diversificazione dell'offerta turistica perché la Campania è sicuramente a tanta forza sul culturale ma non solo, religioso, no gastronomico, verde e tanto altro ancora. Stiamo dando, come le dicevo, forza ai tanti comuni della Campania, delle linee programmate, quindi penso che in questi anni non abbiamo trascurato nessun territorio.